Ciao a tutti, vediamo in questo video 7 segreti che devi assolutamente mantenere. Prima però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, il primo segreto che devi mantenere sono i dettagli fondamentali, importanti della tua vita privata. Soprattutto evita di diffonderli nei social. Cioè, ci sono persone che diffondono nei social dei lutti importanti, degli eventi, delle relazioni sentimentali e affettive importanti. Le relazioni sentimentali e affettive importanti non vanno messe in pubblica piazza nei social. Come, secondo me, anche i lutti importanti non vanno diffusi sulla pubblica piazza dei social. Questo perché, come dire, tutto quello che viene diffuso in questo modo, soprattutto nei social, è come se fosse svilito, una cosa senza importanza. Non è una condivisione quella. Le persone chiacchierano. Tra l'altro nei social abbiamo, come dire, amici che non sono amici. Cioè, qualcuno sì, ma la maggior parte no, no. Mi viene in mente quella brazzelletta che sentivo di due che sono al funerale di una persona. Sono gli unici due nella chiesa dove si svolge il funerale. E uno dice all'altro, pensai che questo aveva 5.000 amici su Facebook? Eh, perché questi non sono amici. Sono, come dire, gli amici di Facebook o dei social sono veri come sono veri i soldi del Monopoli. Per cui, non stare a divulgare tue cose personali in questo modo. La seconda cosa che non va divulgata è la conoscenza spirituale. Il livello di spiritualità, le pratiche che si fanno, o lo fai, come dire, con un discepolo, un maestro o una persona con la quale condividi questa cosa. Ma se no, altrimenti, sono cose che spesso le persone non capiscono, non colgono. Non ha nessun senso. Se non che di svegliere la pratica, anche qua, che tu stai portando avanti. Mai divulgare, diciamo, quelle che sono le proprie conoscenze spirituali. Altra cosa, non devi divulgare i tuoi problemi, lamentandoti. Il terzo punto. Ci sono persone che si lamentano di continuo con tutti. Intanto generi negatività a te stesso e agli altri. Generi soltanto negatività. E questa negatività che generi, diciamo così, si diffonde poi a macchia d'olio su tutte le persone. Quindi mai, mai e poi mai divulgare agli altri la tua, per così dire, i tuoi problemi. A meno che qualcuno non li possa risolvere. Anche qua, molte persone diffondono queste cose sui social, che è ancora peggio, tra l'altro. Non vanno divulgati i progetti. Progetto è divulgato, progetto non realizzato. Questo fa pure rima. Perché quando tu divulghi qualcosa, non lo realizzerai. O diminuirai drasticamente le possibilità di poterlo realizzare. Questo è un dato di fatto, è un qualcosa che si verifica molto spesso. Quindi evita di divulgare cose. Evita, evita, evita. Poi devi evitare di divulgare i tuoi successi. I successi personali non vanno mai, mai e poi mai divulgati. Anche per questo motivo puoi generare delle situazioni di intolleranza, puoi generare delle situazioni di rabbia. Mai divulgare. Assolutamente evitato i successi. E neanche, com'è, sesta cosa agli atti virtuosi che fai. Se fai beneficenza, se fai qualcosa, quello serve per creare un campo di merito. La generosità non è generosità se la diffondi in giro. E perderai la possibilità di sviluppare un karma positivo. L'ultima cosa che non va assolutamente divulgata è il tuo passato. Il tuo passato fa parte di te. Tentelo per te. Conserva in uno scrigno segreto gli amori, le vicende. Mai divulgarlo. Perché? Perdono consistenza. Sono cose preziose che devi tenerle per te. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi. Iscriviti al canale. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.